C'è la Nassi, la sua bolletta? No, me ne dia un'altra. Vuole quella dei pozzi che paga una metà. E lei come lo sa? Intuido. Semplice risparmiare quando è tutti gli elettrodomestici classe A. Ma vado da Compass e cambi classe pure lei. Un prestito? Ma ci vuole tanto. Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta. Da Compass per un prestito basta un giorno. Un prestito di così? Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno. Nino! Ho preso lavatrice, frigorifero e condizionatore. Tutte A più più più. Si vede che lei ha classe. Grazie a tutti.